buongiorno a tutti oggi lunedì 10 agosto e parliamo di analisi ciclica evoluta su due mercati dax e fuzzimib in questo momento a circa un'ora e venti dall'apertura i future sono decisamente positivi 104 punti per la germania e 206 per il mercato italiano ecco perché non mi sono fidato rimanere eventualmente short o andare short in overnight perché nella realtà dei fatti se da qui sta partendo qualcosa di più di un t settimanale eventualmente un t più due come avete visto un mensile la spinta più ampia dovrà arrivare nella prima parte se questo poi eventualmente potrà diventare poi ribassista o eventualmente se non lo sarà cosa che è poco probabile perché dobbiamo andare in chiusura di un t più 4 semestrale avremo che comunque la spinta maggiore avverrà nella prima parte del ciclo stesso vedete che dato che la partenza è avvenuta a 12.253 punti il 30 di luglio su questo minimo siamo soltanto a 6 giorni per cui bisognerà provare a spingere più possibile verso l'alto per poi iniziare a scendere e siamo a 6 giorni oltretutto durata media di un t settimanale per cui cosa possiamo dire possiamo dire che la divergenza rialzista in questo momento sta tra virgolette pagando ok nel senso che stiamo avendo una spinta verso l'alto questa va eventualmente accompagnata prima della chiusura del t settimanale e noi siamo già arrivati con una condizione minima a questo t meno 3 che dobbiamo capire se effettivamente è ancora parte o meno del t settimanale che dovrebbe essere l'attuale come faremo a capirlo sempre semplice i nostri swing per cui dopo questa spinta rialzo che ci dirà se effettivamente qui abbiamo forse già chiuso il nostro settimo t meno 3 o t meno 3 in generale dovremmo andare a vedere che forza avremo dopo l'apertura come al solito anche perché come ripeto ormai da giorni i volumi da adesso in avanti renderanno più difficile la vita tutti i trader nel senso che saranno talmente bassi che ecco potrebbero dare prime indicazioni corrette poi indicazioni errate il mercato diventa estremamente difficile quindi suggerisco a tutti i trader meno esperti eventualmente davvero di andare in vacanza per quanto riguarda quindi il movimento atteso l'attenzione va posta qui ai 12.799 in caso di violazione anche questo t inverso si vincolerà a ribasso e quindi a rialzo di indice continuiamo a spingere lì in su quindi attenzione questo massimo è fondamentale comunque andremo in chiusura del t settimanale entro l'undicesimo t meno 3 o se lo faremo in media all'ottavo t meno 3 e anche in questo caso il primo punto di attenzione effettivo poi diventa questo swing inverso a 12.615 per quanto riguarda invece il nostro fuzzimib abbiamo che anche qui c'è stata la spinta per appunto il nostro sesso t meno 3 che con 211 punti in più ci proietta in area se confermato ovviamente 714 quindi qua attenzione perché anche qui lo swing assoluto che ci interessa per il vincolo eventuale a ribasso del nostro t inverso è a 19.896 e oltretutto bisogna capire che cosa vogliamo fare se vogliamo rimanere in death cross oppure andare in golden cross anche perché supereremo di forza comunque sia l'accumo che abbiamo già superato entrambe le medie mobili per cui attenzione cerchiamo di capire che cosa vuole fare in base agli swing che andrà a violare in base poi ai volumi che arriveranno anche in questo caso deve chiudere questo t settimanale ma questo t sta spingendo per far partire un t più 2 lo vediamo anche in questo caso qui dato che la scansione temporale è questa ed è stata confermata costantemente guardate come siamo andati a rimbalzare peraltro sui livelli sul livello superiore dell'accumo e come vi avevo segnalato nella precedente analisi qui siamo in divergenza rialzista ecco qui comunque siamo arrivati solo ed esclusivamente a cinque candele per cui sta partendo un secondo t meno uno che a un certo punto però dovrà iniziare a scendere quindi punto di attenzione dove vi ho detto a 19.896 anche in questo caso andiamo a vedere un attimo l'inverso qui è possibile che si sia chiuso su questo massimo dopo 11 barre il nostro primo t inverso successivamente siamo a tre candele ok andremo in chiusura del primo t meno uno inverso successivamente però bisogna vedere quanta spinta a ribasso di indice avremo perché è possibile che ci ritorneremo appunto verso il basso riguardando anche qui stesse identiche ecco qui differente come cosa invece potremmo avere avuto un 6 più 7 con eventuale nuovo inverso ripartito da questo massimo ed è arrivato soltanto a due giorni con il rischio appunto che però appunto si vincoli a rialzo l'indice in violazione dello swing a 12.799 quindi attenzione perché qui su DAX la situazione è forse un pochino più semplice dato che la scansione temporale è difficile che non sia questa perché siamo andati qui siamo andati in 10 barre più un pezzo potrebbe essere 6 più 7 più 2 oppure 10 e poi 1 2 3 4 no perché qui si sarebbe già vincolato a ribasso l'inverso se fosse partito da qua molta cautela e molta attenzione se l'analisi vi è piaciuta mettete un like sottoscrivete il canale gratuito cliccate sulla campanella per avere informazioni quando uscirà la nuova analisi viceversa come scritto anche nel disclaimer se siete qui per mettere un pollice verso probabilmente state continuando a perdere il vostro tempo noi andiamo avanti per la nostra strada buona giornata a tutti grazie